Attenzione a falsi agenti Estra in azione anche nel territorio aretino. E' questo l'appello lanciato dallo stesso presidente di Estra, Francesco Macri, a seguito di alcune recenti segnalazioni per episodi di questo tipo che stanno interessando anche la nostra provincia. Stiamo andando verso il libero mercato, aumento una dismisura agli operatori privati che dissimano il territorio di consulenti, agenti, soggetti che fanno il porta a porta. E sempre più spesso, essendo noi l'azienda dominante di questo territorio, si presentano anche come commerciali di Estra, in realtà rappresentano un'altra azienda e magari possono convincere qualche persona a rivedere i contratti e firmarne uno nuovo. Quindi fate attenzione a chi si presenta, Estra fa attività limitatissima door to door, non facciamo contratti a persone che superano gli 80 anni per una questione di etica aziendale e comunque controllate sempre e richiedete di verificare il tesserino perché i dipendenti di Estra hanno un tesserino con una foto e un nome sopra. Quindi controllate effettivamente chi bussa la vostra porta e chi vi propone un contratto sull'energia.